Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Leonardo Bardazzi. In A1 coda per traffico intenso tra Barberino del Mugello e Calenzano in direzione Roma, segnalato anche personale su strada tra il Bivio A1 variante di Valico e Aglio in direzione Bologna. Ancora in A1 l'uscita di Firenze in Proneta in direzione Bologna, è chiusa al traffico fino alle 6 di domattina. Chiuse anche le corsie di destra tra Firenze Sud e Firenze in Proneta in direzione Bologna. Sulla FIPILI restringimento di carreggiata nel tratto tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina per lavori in corso. La sala di protezione della città metropolitana di Firenze avverte che è stato emesso dalla Regione Toscana uno stato di allerta codice arancio per le aree montane e collinari della città metropolitana di Firenze. L'allerta sarà attiva per buona parte della mattinata di oggi e nuovamente da stasera. Oversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Buon viaggio!